C'è qualcosa che puzza qui dentro. Ti avevo detto di non lasciare i tuoi calzini sporchi lì dietro. Tesoro, questi non sono calzini sporchi. Mi sento così, idiota. Anch'io. Insomma, è pazzesco che abbia pensato che tu potessi veramente uccidere qualcuno. Lo so, mi dispiace tanto. David, che cosa faremmo senza di te? Come sarebbe senza di me? Voglio dire che ci hai chiarito le idee, siamo in debito con te. Sei un caro amico, il migliore. Accosta! Mi hai sentito, accosta! David, andiamo, amico che ti prende, sono io. Avanti, parliamo. Io non sono vostro amico. Cazzo, David, per favore, metti giù la pistola. Perché? Volete uccidere anche me? Aspetta! Non abbiamo ucciso nessuno. Siete bravi, siete bravi, avete imbrogliato anche me. Ma di che cosa stai parlando? Di questo. Figlio di puttana, perché? David, non sono stato io, è stata l'altra. Senti, senti, basta! Basta! Aiuto! Da questa parte! Nessuno si muove! Oh, mio Dio! Anche quello è un moto. Mettete in moto questa baracca! Farsa, farsa, farsa! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Cosa facciamo? Che cosa facciamo? Sta zetta! Fammi pensare, va bene? Dobbiamo procurarci un mezzo nuovo. Tutta la polizia nel raggio di 500 miglia cerca questo furgone. Ci vuole qualcosa che possa passare inosservato.